Ho scelto Modartec per una mia passione a 360 gradi nel mondo della comunicazione e principalmente prima di iniziare questo percorso di studi ho un interesse per la fotografia, la grafica, l'illustrazione e sono tutti ambiti della comunicazione che fortunatamente ho potuto approfondire in questo percorso di studi Ho svolto uno stage all'interno dell'azienda Venicola Castellani lavoravo nel reparto di grafica a stretto contatto con il team di grafica interno all'azienda e il mio compito era quello di svolgere redesign di etichette datate che avevano appunto bisogno di una modernità e di un punto di vista giovane e fresco che potesse appunto svecchiarle Io credo che l'abilità più importante per una persona che lavora all'interno del mondo della comunicazione sia la trasversalità perché in questo mondo c'è bisogno di veicolare il proprio messaggio su canali e su media diversi come possono essere appunto quello dei social network della radio, della televisione, del sito web e quindi appunto la trasversalità è una qualità fondamentale per saper veicolare questo messaggio nella totalità dei media disponibili Sicuramente il ricordo più bello che mi lega a Modartec è quello dell'amicizia con i miei insomma compagni di corso e la possibilità di sviluppare comunque rapporti umani che magari andranno anche oltre il diciamo il mero corso di questo appunto diploma triennale e che magari saranno importanti appunto nella nostra vita Grazie a tutti